Una cosa invece c'era nella tradizione sul palco del primo gennaio che è continuata a esserci tutt'ora e ha mai tornato a sorteggiare però per dimostrazione della bravura dei cantori ha mai tornato a sorteggiare a facevo sorteggiare direttamente a se leggere e adesso sulle imprese canta Marco sempre di zio lì A cucchiare l'impresa e poi dire a spalla a chi dà cappella e a chi a cavalla e all'overaia che ci stanno sottaser a cercare di zio lì a spalla rotta all'overaia che ci stanno sottaser a cercare di zio lì a spalla rotta ... Grazie a tutti.